Ma il fatto sicuramente più straordinario delle decennali di provaglio sono i suoi fiori di carta. E vada a me che lo si bagna, che lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto. Lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando il vino. Lo voglio dare al mio moretto, questa sera quando il vino. Stasera quando il vino, greffo la brutacera. E perché è stato di sera, lui non è di aiutami. E perché è stato di sera, lui non è venuta a me. Non è venuta a me, l'è andata la rosina. E perché è stato di sera, lui non è venuta a me. L'è andata la rosina. E perché è lei, so poverina, mi fa piangere, so spirale. E perché è lei, so poverina, mi fa piangere, so spirale. E' un milione, un milione di fiori di carta che le donne di provaglio di sopra preparano nell'arco di un anno.